Eccoci di nuovo al programma politico di Primo Canale, siamo scesi di uno studio per raggiungere il nostro ospite che ci porterà nell'ambito più politico della nostra serata, Luca Pirondini. Buonasera al senatore Pirondini, buonasera ancora a Matteo Angeli. Allora, è stata una serata che abbiamo dedicato all'argomento migranti, non si esaurirà mai naturalmente la questione, in Liguria come in altre regioni, noi qui abbiamo due situazioni speciali, il primo è quello certamente del confine di Stato, Ventimiglia è la situazione dei migranti che vorrebbero entrare in Francia e che riescono ma con fatica a entrare in Francia, dall'altra il fatto che i porti della Liguria vengono utilizzati da qualche tempo in qua anche come porti sicuri, la Spezia, Genova, più volte. È una vicenda che vi preoccupa, la gestione del governo vi preoccupa, oppure dal vostro punto di vista, insomma, si fa quel che si può? La gestione del governo dovrebbe preoccupare il governo stesso, visto che per anni il centro-destra ha fatto campagna elettorale sul tema dei migranti e adesso che governano e che possono risolvere il problema, che per anni ci hanno raccontato essere in grado di saper risolvere, abbiamo un record di sbarchi degli ultimi anni, abbiamo il triplo degli sbarchi rispetto a due anni fa, il doppio rispetto all'anno scorso, diciamo, comunque rispetto al 2022, il che significa che non hanno saputo risolvere proprio niente e ogni tanto fanno qualche accordo spot che poi naufroga in pochi giorni, come con la Tunisia, come con l'Albania, ma oltre allo spot non andiamo, in sede europea non si tocca palla, perché la verità è che la Meloni ogni volta torna a un Consiglio europeo dicendo ne riparleremo al prossimo Consiglio europeo, la verità è che se nella situazione attuale degli sbarchi dei migranti in Italia avessimo Salvini e Meloni all'opposizione, noi la mattina ci alzeremmo, apriremo il frigorifero e troveremo Salvini e la Meloni a gridare all'invasione e a dire che va tutto male, invece siccome sono al governo loro tentano di non parlarne, però i dati sono purtroppo inequivocabili. Bene, è per questo che la mia domanda si concludeva con si fa quel che si può, perché è un po' quello che penso, alla fine si cerca di fare quel che si riesce in un contesto difficilissimo, come abbiamo credo dimostrato anche nel dibattito di questa sera. Pienondini, parliamo di politica, quella diciamo più di prospettiva, visto che già è cominciato il dibattito in regione sulle future elezioni regionali, certo prima ci sono le europee, magari poi parleremo anche delle ambizioni del Movimento 5 Stelle, anche in chiave ligure, perché poi sappiamo che non è mai facile eleggere dei deputati, eurodeputati del nostro territorio per una ragione di collegio, ma cercheremo poi di capirlo meglio anche con lei, le chiedo intanto da che parte starete alle prossime elezioni regionali, certamente in contrasto all'attuale amministrazione Toti e quel che sarà, ma con il Partito Democratico oppure da soli, ci avete già pensato? Intanto tenteremo di stare dalla parte dei cittadini che vogliono un cambiamento, perché evidentemente pensiamo che dieci anni di giunta Toti siano ampiamente sufficienti per elencare tutta una serie di disastri che sono avvenuti in questi anni, a partire dalla sanità, che è un tema secondo noi veramente dove si è arrivati quasi allo sbando. Poi sul progetto che ci sarà è un qualcosa su cui chiaramente ragioneremo dopo. Le europee in questo momento abbiamo vissuto sul territorio una serie di ristrutturazioni, di novità, penso ai gruppi territoriali, penso a tante persone che hanno aderito ai gruppi territoriali, che vuol dire che c'è una voglia di partecipare e dare una mano proprio dal punto di vista del civismo, che per noi è molto importante. Ci saranno le elezioni europee, dopo le elezioni europee sicuramente si faranno dei ragionamenti, però ad oggi non c'è nulla, non c'è nessun discorso in merito e soprattutto non ci sarà nulla di scontato dopo, nel senso che non è sicuro che si corra con un campo progressista, perché poi il tema non è solo quello col Partito Democratico, ma con tutte le forze che hanno composto quel campo nelle precedenti esperienze, almeno nelle ultime due, nell'amministrativa Genova e nelle regionali scorse, così come ne hai detto il contrario, quindi vedremo cosa succederà. Di sicuro non c'è niente di sicuro ad oggi. Senta, in Piemonte si sta ragionando molto su questo binomio possibile, c'era la settimana scorsa una riunione imprevista, poi è saltata proprio tra PD e Movimento 5 Stelle, è tutto comunque un discorso, un gioco ancora in piedi. Secondo lei si può andare di regione in regione, ogni regione fa storia a sé, in poche parole? Credo di sì, penso che in Sardegna in questo momento ci sia il campo progressista, con la candidata del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, insomma è un'ottima candidata e sarà una grande presidente di regione in Sardegna, qualora dovesse riuscire a vincere. In altre regioni ci sono più difficoltà. Io penso che si debba mettere al centro veramente la questione dei temi, cioè capire su alcuni temi se si è d'accordo o no, sulla sanità pubblica se si è d'accordo o no. A livello nazionale ci sono ancora tanti punti da chiarire oggettivamente rispetto ad altre forze politiche, il tema dell'invio delle armi, il Movimento 5 Stelle continua a votare diversamente rispetto anche ad esempio al Partito Democratico, il tema degli inceneritori, quindi come si smaltiscono i rifiuti, che è un tema estremamente importante sul piano regionale. Mi pare che lì ci sia ancora molta vaghezza rispetto ad alcune forze. Infrastrutture, in Liguria. Anche sulle infrastrutture, anche su cui il tema forse ci si è avvicinati più rispetto ad alcuni anni fa, però ecco ci sono dei temi ancora molto importanti che non sono così chiariti e quindi ci sarà tempo per poterlo fare. Lei sa che c'è un po' di polemica perché qualcuno ha detto ma il campo largo esiste solo se il candidato è del Movimento 5 Stelle. Allora se io le dico due nomi che sono circolati in questi giorni, che sono gli unici diciamo che sono circolati, che sono quelli di Luca Pastorino, deputato del Partito Democratico, diciamo recentemente rientrato nel PD, e Andrea Orlando, che è insomma uno storico esponente DEM. Sarebbero dei buoni leader di un eventuale campo largo in Liguria? Lei fa benissimo a farmi questa domanda per fare bene il suo lavoro, ma sa benissimo che io non darò mai un'espressione rispetto a un nome, perché il tema è veramente quello che ho raccontato prima, cioè capire prima se c'è possibilità di condivisione di temi su scala regionale ma su scala anche nazionale, perché non si può dire una cosa in regione e poi dire un'altra a livello nazionale, quindi il tema non è quello dei nomi ma è dei temi che verranno messi al centro chiaramente dopo le elezioni europee. Però i nomi in qualche modo danno un minimo di idea. Ma i nomi non ci hanno veramente mai appassionato, noi per anni abbiamo candidato dei totali sconosciuti che non portavano con sé in dote nemmeno un voto, io ne sono un esempio lampante perché non avevo nessun tipo di curriculum politico, eppure sono stato candidato sindaco a Genova, per cui per noi veramente non è importante il nome e lo dimostreremo anche questa volta. Ecco però mettiamola in modo diverso, chi decide chi fa il candidato? Nel senso, è chiaro che a livello nazionale sul governo, il centro-destra ha sempre detto, ma credo che sarebbe un po' la stessa cosa se ci fosse il campo largo, poi governa quello che prende più voti, il leader del partito che prende più voti. Nel caso delle giornali non si può fare perché bisogna deciderlo prima, quindi o vi avvalete di sondaggi oppure dovete fare un po' di Emanuele Cencelli per dire ok li metto questo, qua metto quell'altro e vediamo chi ha più speranze di vincere. Voi pensate di poter ambire a prendere quel nome, cioè al di là di Orlando o non Orlando, che possa essere uno del Movimento 5 Stelle a candidarsi in Liguria? Noi pensiamo che sia importante che il centro-destra non sia più in maggioranza in regione per i prossimi cinque anni, perché se prendiamo veramente i disastri che hanno fatto, noi pensiamo che questo sia il tema centrale sulla sanità, quando una regione spende tre quarti del proprio bilancio per la sanità e abbiamo gli ospedali nella condizione in cui vertono oggi. Noi pensiamo che quello che è importante in questo momento è creare un'alternativa credibile, credibile nelle persone e credibile nei temi. Pochi giorni fa uscita fuori la relazione di Gimbe, che di fatto raccontava della mobilità sanitaria, cioè le persone che escono da una regione per andare a curarsi in un'altra regione. Abbiamo visto che nel nord quasi tutte le regioni avevano quasi un beneficio economico e da questo spostarsi delle persone, che non c'è entusiasma in assoluto. Forse una delle poche ad andare in saldo negativo è la Liguria, con 69 milioni di euro, perché i cittadini liguri vanno a curarsi fuori dalla regione, perché evidentemente qua non trovano risposte adeguate. Liste d'attese infinite. Una signora amata oncologica l'altro giorno a San Martino, che sta 48 ore in barella a San Martino. Una signora a Villa Scassi che sta sei giorni su una barella. Due mesi fa al Galliera, al pronto soccorso, persone buttate per terra al pronto soccorso, mentre il Presidente della regione è a Sestriera a festeggiare con il mortaio gigante. A noi siamo un po' stufi di questa visione della politica, tutta spot elettorali, tutta comunicazione. Toti è stato questo, ha raccontato per dieci anni qualcosa che non c'è mai stato, e nel frattempo gli ospedali e i servizi importanti per le persone andavano sempre peggio. Allora qua il tema non è quale sarà il candidato Presidente, ma è quale progetto c'è alle spalle, e se si vuole dare una vera alternativa alla giunta Toti, che per noi è stato un disastro. Vado dietro la domanda di Matteo prima. Nel caso voi avete già, comunque state studiando, avete in mente una margherita su cui da cui sfogliare qualche petalo, qualche nome, lo avete già in testa, dei vostri, diciamo così. Faremo tutto il possibile, tanto non ce lo dirà. È un tentativo vanno. Credo che abbia ragione il direttore Cantile, però è evidente che il Movimento 5 Stelle è una forza politica a livello nazionale molto importante, e che ha delle persone al proprio interno che hanno avuto una crescita negli ultimi anni dovuta anche proprio all'esperienza fatta all'interno delle istituzioni. Il nome ce l'avete in testa? Evidentemente. Tipo Pirondini. Ma sarebbe candidabile? No. Non lo so, ma non è sicuramente questo un tema. Perché lei sarebbe al secondo mandato? Io sarei al primo mandato perché c'è il mandato zero. Però il tema è quello di prima, cioè però nel Movimento 5 Stelle è evidente che sono persone che sono all'altezza e Alessandra Todde in Sardegna ne è l'esempio. Quando bisognerà sciogliere questa prognosi? Perché nel senso, va bene, prestissimo in effetti, non è necessario farlo ora, però è chiaro che un po' la deadline sembra essere le europee, poi vi conterete anche un po', si capirà come sono andate anche in Liguria le diverse cose, e quindi poi ci sarà anche da farla questa campagna elettorale, perché è vero che lo sconosciuto può uscire anche all'ultimo, cioè può essere anche uno sconosciuto, ma non può uscire all'ultimo, perché altrimenti poi è troppo debole rispetto a un altro che magari è conosciutissimo da anni. No, ma io su questo ho detto che evidentemente dopo le europee è il momento in cui si aprirà il tema regionali, di sicuro per incontrarci non utilizzeremo le autostrade, perché sennò probabilmente arriveremo dopo le regionali, considerato la situazione in cui vertono da troppo tempo, e situazione sulla quale secondo me l'amministrazione anche regionale ha fallito totalmente, cioè io penso che il rincaro dei pedaggi autostradali negli ultimi giorni sia una vergogna, cioè che il governo Meloni chieda ai cittadini Liguri più soldi per andare in autostrade in cui non si va mai avanti oppure in cui ogni tanto vieni buttato fuori un casello per farti un pezzo da Aurelia e rientrare. Io penso che sia una vergogna e mi domando dove le istituzioni locali stiano intervenendo, perché l'ultima volta che sono intervenuti il sindaco di Genova e il presidente della regione lo hanno fatto per togliere la gratuità che si era raggiunta per dieci anni su alcune tratte attorno a Genova. Hanno fatto una trattativa a Totti e Bucci e quella gratuità è sparita in nome di opere tutte da verificare, tutte da capire quando saranno pronte e con tetti di spesa massima, perché ad esempio il tunnel supportuale, lo ricordiamo, nell'accordo prevede una spesa a carico di autostrade fino a 700 milioni. Un euro in più, da un euro in più in su, lo pagheremo noi cittadini Liguri e italiani con l'aumento dei pedaggi. Questo francamente non ci è sembrata proprio una trattativa geniale da parte di nostri amministratori locali. Senta, non so che peso lei dà generalmente ai sondaggi, ma ho letto proprio pochi giorni fa un sondaggio fatto da Tecnese, non sbaglio, e dava al Movimento 5 Stelle in leggera ripresa. In che stato di salute versa in questo momento, secondo lei, il Movimento? Io non ci hanno mai appassionato, poi con grande sincerità spesso i politici dicono che non li guardano, ma poi in realtà li guardano un po' come immagino i giocatori di calcio le pagelle lunedì mattina, un'occhiatina la danno, quindi con sincerità è chiaro che tutti li guardiamo. Dicono che il Movimento però è una forza veramente sempre molto importante, perché dopo tutti questi anni e dopo mille traversie è una forza politica che non scende mai sotto il 16% a livello nazionale, allora vuol dire che è una forza politica che anche in Liguria ha fatto molto bene alle ultime elezioni politiche, forse contro i pronostici che in quel momento non ci vedevano forse così forti, e quindi penso che su quella stregua e sul nuovo corso guidato da Giuseppe Conte si debba andare avanti per realizzare ancora tante cose. Ecco, chiudiamo con le elezioni europee, avete diciamo le idee chiare su questo appuntamento elettorale, noi come primo canale in generale e Liguri vorremmo che ci fossero dei Liguri diciamo con cui poter dialogare, al momento voi avete Tiziana Beghin che è una genovese che ha il Parlamento europeo, Brando Benifei, Partito Democratico, Marco Campomenosi per quanto riguarda la Lega. Non è mai facile riconfermarli questi, perché il collegio è enorme e la Liguria è un quartiere diciamo in questo grande collegio. Che ambizioni avete per le europee? Riuscirete a fare leggere uno dei vostri e quindi dei nostri? Beh, sicuramente ci proveremo e devo dire che nelle due esperienze precedenti ce l'abbiamo sempre fatta con Tiziana Beghin che su me è stato veramente uno di quegli innesti importanti per la politica, una persona seria, per bene, di grandissimo valore a livello umano e professionale. Certo è che, come spiegava lei prima, le dinamiche delle erozioni europee sulla Liguria sono da sempre penalizzanti, però devo dire che noi puntiamo sempre a esprimere qualche d'uno che sia espressione del territorio genovese e Ligure e ce l'abbiamo sempre fatta e puntiamo a farcela anche questa volta. Bene, bocca al lupo Luca Pirondini, naturalmente ci risentiremo tante volte per tanti temi, ma insomma ci piacere fare un po' un quadro un pochino più di insieme e anche di prospettiva per il Movimento 5 Stelle e per le ambizioni di questo Movimento alle prossime elezioni europee e regionali. Grazie anche a Matteo Angi. Ciao Matteo, ci vediamo.